Mal tempo e dissesto idrogeologico, industria dell'automotive e ILVA sono i temi trattati dal Premier Conte in visita all'FCA di Melfi in occasione dell'Assemblea Anfia, Associazioni Nazionali, Filiera, Industria Automobilistica. Stiamo lavorando ai vari settori, assicura il Presidente del Consiglio, su industria e soprattutto sull'ex ILVA però dovete darci il tempo. Ad avviso di questo governo non si possono più separare i temi della tutela dell'ambiente e della salute con il tema del lavoro, della pieno occupazione e del rilancio produttivo. Il signor Mittal da questa interlocuzione, in questa ultima interlocuzione ha assunto una posizione completamente diversa rispetto al presente incontro in cui ci aveva notificato di voler recedere da questo impegno di venire meno agli impegni contrattuali. A questo punto abbiamo aperto un negoziato, adesso il negoziato deve svilupparsi e dovete darci un attimo di tranquillità. Quanto all'automotive e alla richiesta esplicita del ritiro della misura in legge di bilancio espressa dal Presidente Anfia, Conte risponde. Ci sono delle nuove a marzo e a giugno prossimo, partiranno delle nuove produzioni, delle nuove linee per quanto riguarda in particolare l'ibrido e poi come sapete anche FCA ha annunciato questa svolta nell'elettrico, nel full elettrico, nel pieno elettrico. E questo è stato il futuro e adesso secondo me infatti bisogna già lavorare anche per l'idrogeno, che è una tecnologia che oggi pare ancora non a una portata, alla portata diciamo così, dei consumatori. In realtà invece è quella anche la direzione. Infine sul maltempo Già a fine 2018 io stesso ho cercato di spingere molto, di coordinare per adottare all'inizio di quest'anno 2019 il piano Proteggi Italia. Ora è chiaro che non è che si adotta un piano organico per lavorare molto anche sulla prevenzione e non solo più sulla gestione dell'emergenza, non significa che l'adozione di un piano risolve i problemi. Sono stati stanziati 11 miliardi su base pluriennale, ora però dobbiamo spendere questi soldi, quindi dobbiamo assolutamente accelerare con tutte le opere e i cantieri che ci consentano di contrastare il dissesto idrogeologico.